A Giarra è convocata per domani la conferenza dei capigruppo per decidere data e ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. La prossima seduta potrebbe cadere martedì prossimo 9 dicembre e a meno di novità dell'ultimo minuto si dovrebbe continuare con il vecchio ordine del giorno con in primo piano il regolamento per il trasporto alunni sul quale bisogna definire alcuni aspetti, sui quali si era già dibattuto in sede di prima commissione consigliare. Il nodo più importante è il costo del servizio, se e a quali fasce di popolazioni renderlo gratuito, se sfruttare la dichiarazione i se oppure no. Insomma ci sono alcuni nodi da sciogliere ma non sono certo montagne insormontabili anche se nella maggioranza il clima politico in questa fase non è dei migliori. Vuoi per le note spaccature acuite dal fatto che non essendoci nessun rimpasto alle porte le ansie e le agitazioni nella coalizione che sostiene l'amministrazione si moltiplicano per cui anche le cose facili possono diventare difficili.